riprendo perché anni fa ci stava scappando il morto voglio vedere come entra sopra il relitto di pomonte c'è gente in acqua laggiù e lui adesso ci passa dentro guarda eh qui dove c'è il relitto ci saranno trenta persone di quei venti bambini o lui guarda vuole salire andare proprio sopra il relitto guarda li sta appuntando eh si devono scansare secondo lui guarda eh guarda eh stanno lì davanti zoom perché non ci si crede ci va sopra se ne frega con i motori accesi dove vavo avanti guarda 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 ci va proprio sopra guarda eh guarda che roba palloni in acqua con bambini lui si avvicina seni fotte l'ho ripreso perché lo so che fa sempre così guarda 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 si devono spostare loro a nuoto perché deve arrivare lui sopra guarda 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 guard www.mesmerism.info Grazie a tutti